Popolo di internet, ben ritrovati in un nuovo video, oppure benvenuti se è la prima volta che passate da queste parti. Io sono uomo che sapeva troppo, per gli amici uomo, e siamo qui per togliere il velo dalla penultima, penultima casellina del bizzarro calendario dell'avvento che Marvel Studios e Disney Plus stanno portando avanti dal 22 dicembre che ci porterà fino a domani, 30 dicembre, quindi più o meno verso la fine del 2023, ovvero la seconda stagione di What If, episodio 8. E se gli Avengers si fossero uniti nel 1602? Attenzione, What If ha tema storico, tra l'altro ha tema anche cappa e spada. Devo dire che io non amo troppo, l'ho già detto più volte, i film, insomma tutte le storie un po' in costume, non mi fanno impazzire. 1602, tra l'altro, è una serie a fumetti creata da Neil Gaiman, un vero e proprio What If a fumetti della Marvel, a cui questa storia ovviamente si ispira, ma solo largamente. La recensione slash chiacchiera sulla puntata, come sempre, sarà spoiler, quindi scappate se non l'avete vista, tornate qui dopo la visione, perché voglio sapere la vostra nei commenti, quindi mi raccomando, nel caso ritornate. Avengers 1602, beh, che è successo? È successo che Capitan Carter, qualche episodio fa, è stata trascinata contro la sua volontà in questo universo, e scopriamo, insomma, come già si poteva supporre da quella, chiamiamola, sì, scena finale, non scena post-credit, è stata Scarlett Witch, un'effettiva strega, in effetti, in questo universo, un universo più magico che scientifico, è stata trascinata qua, perché sta avvenendo, anche se non viene mai detto in maniera diretta, un'incursione, signore e signori, ovvero la presenza di un personaggio anomalo in quell'universo, viene chiamato, insomma, il precursore, il primo ad essere arrivato in quella terra dal futuro, sta facendo collassare l'universo, anzi, molto probabilmente, come dice la stessa Capitan Carter, due universi sono appiccicati, le incursioni sono proprio quello, cioè due universi che si fondono, tra virgolette, si scontrano, perché il muro che tiene separati gli universi è troppo sottile, e quindi succede che, muro contro muro, entrambi gli universi, molto probabilmente, finiranno male, oppure a volte, nei fumetti, è successo che solo uno dei due potesse prevalere sull'altro, insomma, ci sono vari modi in cui le cose possono andare male, quel che è certo è che questo 1602, come dice lo stesso osservatore che Peggy Carter, quindi Capitan Carter, può sentire, perché è stata un membro degli Avengers multiversali, quindi ha un contatto, diciamo, in più rispetto agli altri esseri dell'universo con Watu, con l'osservatore, io lo chiamo Watu, anche se il suo nome non è mai stato detto, credo, a meno che non succedesse alla fine della prima stagione, però vabbè, l'osservatore. Quindi abbiamo, insomma, abbiamo già un accenno di incursione, cosa che è stata nominata più volte dalle altre parti, ma qua siamo arrivati pericolosamente a conoscerne il suo significato. Nei fumetti le incursioni avvengono perché si viaggia troppo tra le dimensioni, devo dire che l'MCU, per quanto ci si lamenti che il multiverso sia stato poco sfruttato, comunque si sia viaggiato poco, perlomeno nei film, devo dire che un po' di viaggetti nelle dimensioni, soprattutto con Dottor Strange, li ha fatti. Infatti Dottor Strange 2, in The Multiverse of Madness, nel multiverso della follia, se vi ricordate, finisce con questa maga, che si chiama Clea, ve lo dico, contatta Dottor Strange, lo raggiunge e gli dice hai provocato un'incursione, vieni con me. La mia ipotesi è che l'incursione che Strange ha provocato sia quella del primo film, quando aveva aperto quel ciclo con Dormammu, praticamente infinito, cosa che ha portato probabilmente l'universo oscuro, dove Dormammu stava, a collassare, a succedere, non lo so, lo scopriremo. Chi è il precursore, visto che appunto la recensione chiacchiera e spoiler, è Steve Rogers, Steve Rogers che arriva da un futuro alternativo, ovviamente, quindi un'altra timeline probabilmente, dove Thanos stava affrontando gli Avengers in Wakanda, Steve ha colpito la gemma del tempo, è una scheggia temporale, probabilmente lo ha colpito, e Steve è stato riportato indietro nel 1602, di quella linea temporale, ma lo sappiamo, no? Viaggio nel tempo, torni indietro, cambi le cose, e ne crei inevitabilmente un'altra. Quindi questo 1602 probabilmente è il parto stesso di una cosa che è andata in modo diverso da qualche altra parte. Probabilmente forse è un paradosso, lo stesso Steve ha creato l'universo che sta distruggendo? Non lo so, insomma, il Watif non ce lo spiega, non ci spiega tante cose come spesso succede in questi micro episodi che ci mostrano altri mondi, ad esempio vediamo che Happy Hogan è una sorta di sceriffo di Nottingham che ha dalla sua un'armata di esseri che si rimpiccioliscono, gli Yellow Jacket, quindi i Calabroni, quindi diciamo un rimando a Calabrone, il nemico di Ant-Man, e lo stesso Ant-Man si rimpicciolisce, non è che ci viene spiegato bene particelle Pym, magia, ci si può rimpicciolire. Abbiamo Hulk Verde che è praticamente una parodia della Maschera di Ferro, quindi è tenuto prigioniero in una delle celle del castello. C'è Hulk Viola che ritorna, quindi già abbiamo la seconda apparizione di un Happy Hogan Hulk Viola che a un certo punto si trasforma, c'è Thor che è il re con suo fratello Loki che fa esserlo o non essere, quindi Hamleto, quindi c'è un po' di Shakespeare, si parla di Yago, insomma c'è tanto William Shakespeare, c'è Tony Stark che è un ubriacone che non ha un'armatura ma ha una grande mente scientifica ed effettivamente sarà lui, come dice alla fine della puntata, forse ad avviare finalmente una rivoluzione anche di tipo scientifico e non solo magico, anche se lui dice scientifico-magico assieme. Insomma c'è questo mondo del 1602, quindi un ormai rinascimento bello avanzato, che ci racconta praticamente una sorta di crasi di tutto l'MCU vista in ottica appunto 1600esca. Carino, carino come ambientazione, l'episodio mi è piaciuto, diciamo non amando troppo appunto cappa e spada, cose d'ambientazione storica, eccetera eccetera, non mi ha fatto fare i salti di gioia, ho apprezzato molto però il fatto di tirare in ballo l'idea di due universi che si stanno scontrando ed esplodendo, perché effettivamente possiamo considerarla forse la prima vera, non spiegazione di un'incursione, ma importanza di incursione, perché in The Marvels ci viene accennato nel finale, in Strange ne parlano e ne parlano anche gli Illuminati in Terra 838, quindi è un concetto che già abbiamo, però mai era stato così determinante e di fatto centrale in un'intera narrazione, quindi è un bel passo avanti, un bel passettino avanti diciamo comunque per quello che sarà il problema principale di questa fase multiversale, perché Secret Wars, Kang Dynasty, comunque in qualsiasi modo decideranno di chiamare i prossimi due film degli Avengers, il problema sarà, molto probabilmente come nei fumetti, proprio un'incursione che sta per distruggere Terra 616, comunque quella dell'MCU, con magari un'altra terra, queste si scontreranno, poi si creerà Battleworld, questo mondo fatto da più pezzi di altre cose, l'Arcano, Kang, insomma, grande scontro fra tanti Avengers e tanti nemici probabilmente multidimensionali, ma le incursioni saranno molto molto importanti, perlomeno così dovrebbe essere seguendo un po' la trama dei fumetti e sembra che in effetti film, serie eccetera, stiano andando da quella parte, quindi mi ha fatto piacere questa presenza. E per il resto, sì, è tutto un po' ah, c'è Robin Hood, ma è Capitano America, c'è Little John, ma praticamente sono due, si può dire, no? Gli sgherri amici di Steve Rogers, quindi uno è Bucky, l'altro è Scott Lang, quindi Ant-Man, l'unico vero che può rimpicciolirsi, come dice lui, alla faccia degli Yellow Jacket, abbiamo Happy Hogan, che ho già detto, essere praticamente lo sceriffo di Nottingham, abbiamo Frigga, la madre di Thor, che appunto è attualmente il re, che scompare in un altro universo, cioè viene risucchiata da quel portale, che presumibilmente ti porta altrove, non credo ti disintegri nel nulla, e questa cosa mi ha fatto pensare, ah, ma quindi Frigga è finita da qualche parte, la rivedremo, magari, nell'ultimo episodio a sto punto, a meno che nella terza stagione non ci sia un what if, cos'è successo a Frigga, una volta risucchiata, ultimo episodio, che probabilmente vedrà incontrarsi più persone, e come avevo immaginato, Strange Oscuro, chiamiamolo così, il Dottor Strange, super potente, già visto nella prima stagione, e già visto nell'episodio di Kahori, che insomma l'andava a chiamare, per una missione, alla fine dell'episodio, qua va a reclutare anche Captain Carter, quindi effettivamente si sarebbero incontrate, quindi Captain Carter e Kahori si incontreranno, e chissà chi altri, l'osservatore sembra all'oscuro, per adesso, di quello che sta facendo questo Strange, non sembra lui dietro, diciamo tutto, che lo sta manovrando, perché in questo episodio tenta di riportare, appunto, Captain Carter nel suo universo, ma non accenna minimamente, ad altri fatti riguardanti quello Strange, quindi magari l'ultimo episodio, vedrà proprio un qualcosa, che anche l'osservatore non conosce, questo Strange sta agendo alle sue spalle, è molto probabile, perché lo sta facendo, che cosa vuole, l'ultimo episodio, già lo sappiamo, perché anche se, lo dico sempre, io sto facendo questo giochino delle caselle, si intitolerà, e se Strange Oscuro fosse intervenuto, bisogna capire dove, bisogna capire perché, bisogna capire, per fare cosa, insomma, quindi, sono molto, molto in hype, per la puntata di domani, che sarà una puntata conclusiva, e che, insomma, potrebbe, non credo, aprire le porte, a chissà che, nel futuro della Marvel, perché l'animazione, viene sempre tenuta, a un gradino sotto, anche più sotto, delle serie tv, che stanno comunque sotto, ai film, quindi c'è una serie di gradi, di continuity, e di importanza, e sappiamo che What If, è qualcosa di divertente, che ci racconta il multiverso, ma poi, non ha moltissimi sbocchi, insomma, nell'universo cinematografico principale, perlomeno per adesso, sarebbe carino, che magari in Secret Wars, dove forse ci saranno, veramente tutti, compaiano anche i personaggi, di, di What If, magari l'osservatore, l'osservatore live action, lo vorrei vedere, abbiamo visto, lui, lui, o comunque, alcuni suoi amici, in Guardiani della Galassia, volume 2, ma erano veramente accennati, mentre parlavano col povero Stan Lee, quindi sono curioso, di vedere cosa, cosa succederà, comunque, episodio promosso, mi ha divertito, belle scene d'azione, begli inseguimenti, tutto il piano, per andare a recuperare lo scettro, lo scettro che deve attivare, questo macchinario, costruito da Stark, che è una specie di rilevatore, e che si basa proprio sulle, sulla gemma, no, quindi sulle schegge, che lui prende, quando, Loki viene portato in alto, Captain Carter, lo salva, quindi un po' di queste scheggine, rimangono addosso, lui le analizza, insomma, è carino, hanno trovato diversi espedienti, molto, molto divertenti, animazione, vabbè, praticamente la solita, è un punto che mi ripeta, ogni puntata, non sono un grandissimo fan, dell'animazione di What If, ma, qualsiasi appassionato di animazione, può dirvi che non siamo davanti, a chissà cosa, ma, ripeto, è una forma di animazione, che serve a catturare, soprattutto l'attenzione, a ridare allo spettatore, proprio la sensazione, in effetti, di Marvel Cinematic Universe, quasi di live action, tra virgolette, con questo aspetto, molto, molto, realistico, vediamo, vediamo dove ci porterà, il prossimo, e ultimo, What If, per questa seconda stagione, e che ci ha accompagnato, appunto, per questa settimana, o poco più, attraverso le feste, e pronti per il 2024 Marvel, che ovviamente tratteremo, su questo canale, quindi mi raccomando, nel caso della prima volta, che passate da queste parti, iscrivetevi, venite anche a trovarmi su Twitch, perché facciamo live, quasi tutte le sere, dove chiacchiero con voi, leggo i vostri commenti, vi do dei consigli, magari, se non conoscete la Marvel, se volete leggere delle cose, parliamo di cinema, parliamo di videogiochi, recuperiamo sempre le news, giornaliere, a volte settimanali, recuperiamo i trailer assieme, videogiochiamo anche, quindi, passate sul mio canale Twitch, trovate qua sotto, tutti i link, a Twitch, a, vari social, dove trovarmi, in modi anche, per supportare il canale, come, la fumetteria, Inside Collector, oppure il negozio di magliette, e felpe nerd, nerdò, dove avrete, in entrambi i posti, uno sconto, se scrivete uomo, quando state per acquistare, quindi fatevi un giro, nei vari link, che trovate qua sotto, non abbiate paura, di cliccare, le descrizioni dei video, perché sono piene, di informazioni, e soprattutto vi aspetto su Twitch, iscrivetevi anche lì, se non conoscete Twitch, ragazzi, è veramente facile, è praticamente uguale a YouTube, create un account, potete entrare, è tutto gratis, commentate le dirette, ed è bello, perché chiacchieriamo, proprio, come se fossimo allo stesso tavolo, perché leggo appunto, di solito, tutti i vostri commenti, ma i commenti che voglio leggere, sono anche quelli sotto questo video, quindi mi raccomando, fatevi sentire, fate sentire la vostra, ditemi, se vi è piaciuta, oppure no, come sta andando questa, seconda stagione, vedo che spesso, quasi sotto ogni episodio, qualcuno mi dice, ah, è il mio preferito, quindi vuol dire che, insomma, la serie sta piacendo, se per diverse persone, ogni episodio, può essere il preferito, vuol dire che, globalmente, sta andando bene, magari non avrai, grandi visualizzazioni, ma chi la vede, mi sembra per ora, sia abbastanza felice, ecco, di questa What If, stagione 2, a me sta piacendo di più, della prima, e oramai, manca un solo episodio, quindi, possiamo già dire, che la preferisco, largamente, alla prima stagione, vediamo, vediamo, sono curioso di domani, per capire strange, che cosa vuole, da le varie persone, che sta reclutando, vi aspetto nei commenti, fatevi sentire, e noi ci vediamo, al prossimo video, ciao.